Wildeart Lane Realizer doppio, 2 a 0 Disastroso il tedesco Che regala l'assist al cecchino Che in 18 gol, come Diego Costa Ligente, dalla porta opposta c'è Bardi Face to face con forma 2 a 1 Partita riaperta Ligente, Morgan 2 a 2 al Wildeart Lane Ha segnato Morgan Ligente, copertura, si addormenta Ruslo anticipa Calcio di rigore per Dean Horikin La prima tripletta in Premier Vale la vetta Nella classifica marcatori Serisce Paoligno C'era il pallone pure Ericsson Uno contro uno con Schmaicolla Ha il pallone Lo manda dentro Schluppa Autogol del ganese Guardi la prolunga Sulla corsa di Nugent Nugent Fa 4 a 3 Ma non basta Perché al Wildeart Lane Vince il Tottenham Vince il Tottenham Vince il Tottenham